La vita nel villaggio dei Voodie Benvenuto al nostro villaggio, Bon! Casa, dolce casa! Il traffico è intenso di pomeriggio! Ti ci abituerai! Vi costruite tutte le case con i tronchi? Sì, ma tranquillo, non abbattiamo gli alberi! Già, li spostiamo e basta! Le radici assorbono energia dal pozzo degli Zell e la ridistribuiscono in tutto il villaggio! E indovina chi ha il compito di trovare gli Zell per riempire il pozzo? Ce l'ho io, Hoppy! Ah, giusto, a volte mi aiuta anche Auli! D'accordo, basta chiacchiere adesso! Seguimi, Bon! Voglio presentarti due membri chiave del nostro clan! Questa è l'officina di Sambra, il nostro inventore! Bene, bene, bene! Chi è il nostro nuovo amico? Fa così con tutti! Già! È bello vedere giovani leve al villaggio! Piacere di conoscerti! Il piacere è tutto mio! Io sono Bon e sono appena arrivato! Un nuovo giocatore! Permetti una parola? Lei è il lupa, la nostra guerriera migliore! Lieto di conoscerti, il lupa! Non posso dire lo stesso! Datemi un attimo! Beh, non farci caso! Comunque, benvenuto nella mia officina! Il mio rifugio! È uno straniero! Perché lo hai portato al villaggio? Ha salvato i ragazzi! Non importa, è contro le regole, è troppo rischioso! Ma la mia scoperta più grande è la stazione di ricarica! Se non lo butti fuori tu, lo faccio io! Perciò... Grazie a te sappiamo dove si trova il villaggio! I budi avranno presto visite! Nuova missione! Rubare il D-Zero! Amico, questo è tutto! Però... Nessuno mi aveva mai ascoltato così tanto! Ti meriti un premio, ragazzo! Badge ha giunto all'inventario! Ma sta attento e non... Ah, io mi sono punto il dito! Svelti! State parlando alle mie spalle! Ci sono 364 messaggi non letti! Spam! Ancora spam! Chi se ne frega! Cosa? Qualcuno è riuscito a infiltrarsi al villaggio! E io sono il più vicino! Arriverò prima di Barch e Curtis! E ruberò così tanti zel che Bross dovrà per forza promuovermi! Grazie, Hauli! Altri zel mi rinfozzo! E vai! Non appena si saranno sciolti tutti avrò abbastanza energia per le mie macchine! Ciao! Volevo scusarmi per prima, Vaughn ma devi capire che... Non preoccuparti assolutamente! Attenzione! I broker! Sono qui! Sono vicini al villaggio! Più vicini che mai! Lo sapevo! Brutta spia che non sei altro! Ci avventate! Perché dai la colpa a me? Magari vi hanno trovato da soli! Ma che coincidenza! Tu arrivi e guarda caso loro trovano il villaggio! Ragazzi, voi mi credete? Non è vero? E non è vero! State pronti a combattere! Potrebbero spuntare fuori in ogni... Distruggete tutto! Eliminateli! Io mi occupo del coccodillo! Vitto nel becco! Ottimo, i broker! Saranno venuti a salvarmi! Se riesco a liberarmi posso rubare gli zelma? Come? Ci sono con il badge! Posso usarlo per tagliare la corda? Oh no! Esatto! Eliminateli! Ehi amico! Sono qui! Guarda quel tigelo portato! Questi voodii li prendono sempre più scemi! Che cosa? No 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 no! I broker hanno sparato Mon! Dobbiamo aiutarlo! Grazie per questo bel regalino, voodii! Mollalo, sono certo, lad! Sbaglio! Ritirata! Ci rincontreremo! Tranquillo, ti rimetterei presto! Fortuna che i broker non ti hanno eliminato, ma ci sono andati vicino! Sì, hai proprio ragione, quel giocatore sembrava molto esperto! Sai, forse mi sbagliavo su di te! Sei stato coraggioso a proteggere gli Zelda e i broker! Scusa se ho dubitato del tuo onore! Con questo atto di coraggio hai dimostrato di essere dei nostri! Lo sapevo! Mi sono sempre fidato di te! Maddy, hai attaccato Bon? Ma non hai letto i messaggi? Bon è uno di noi! E io come facevo a saperlo? Non mi dite mai niente! Rubare gli Zelda, missione fallita! Metasense! Metasense! La battaglia nel mondo virtuale impazzerà! Metasense! Wooden's and Rocket son pronti, scopri chi vincerà! In questo mondo sei tu al comando, cattura l'energia! Zez! Metasense! L'energia degli Zelda Bon si è unito a Metazels Eureka! Eureka! Ce l'ho fatta! Dicevano che non sarei mai riuscito a creare un gadget così! Eppure ecco a voi la bussola scova Zelda! Ora chi è il pazzo, eh? Una bussola scova Zelda? Gran bella scoperta, Sambran! Scoperta? Qui si fa la storia! Ora possiamo trovare le miniere di Zell senza dover esplorare la mappa! Bussola, mostraci una fonte di energia Zell! Guardate! Ha trovato qualcosa! Sono un genio! Vorrei tanto andare con Sambran in esplorazione, vero? Non vedo perché no! Andrete a scovare miniere insieme! Nuova missione! Trovare miniere di Zell! Ah! Andiamo a trovare gli Zell, amico! Bel gadget, vero? Bel gadget! È questo che pensi? Noi due siamo esploratori! Trovare le miniere di Zell è la nostra missione! Se quel gadget funziona, mi dici io a te che cosa serviamo! Me lo dici! Serviamo? Non serviamo a niente! Dobbiamo distruggere la bussola a tutti i costi! Li travestiremo da alberi ed entreremo nel villaggio! Il trucco sarà quello di introdurci col nuovo travestito! Silenzio! È il ragazzo! Svelti! Non abbiamo molto tempo! Uno dei voodii mi sta portando a una miniera di Zell! Vi ho mandato la posizione! Ci vediamo lì! Troveremo un bottino sostanzioso! Bene, signori! C'è stato un cambio di programma! Senti Sam, sei proprio sicuro che saremmo da soli? Non è che Verne e Lupo arriveranno più tardi per aiutarci a trasportare gli Zell, è giusto? Tranquillo! Non dovremo trasportarne così tanti! Ne prenderemo soltanto un po'! Che senso ha andare in una miniera piena a zeppa di Zell per prenderne soltanto un po'! Gli Zell sono oggetti estremamente delicati! Hanno il potere di rigenerarsi nelle miniere! Ma per riuscirci deve esserci sempre qualche Zell rimasto sul fondo! Altrimenti la riserva si presciuga e rischia di morire per sempre! Ricevuto! Allora ne prenderemo soltanto un po'! Fatelo! Il Thrasher ha finito la carica! Matti! Sbaglio pure quello di ricaricare i veicoli è l'unico compito che ha! Mi dispiace, capo! Curtis mi ha distratto con la sua presentazione, allora... Non dare la colpa a me! Hai sbagliato l'altro giorno e continui a sbagliare! Com'è possibile? Non riesco a credersi! Tu generai Razzle per ricaricare il Thrasher! È alla svelta! Noi invece andiamo in ricognizione! La miniere non deve essere lontana! Ma fa non credere! Hai sbagliato l'altro giorno! Che si crede di essere quel piccione? È il momento di trasformare qualche Zell! Et voilà! È il momento della merenda! Eccola lì! Una miniere di Zell piena di energia! Cosa? La bussola punta in un'altra direzione! Indica una punta di energia ancora più forte di questa! Magari si tratta di un'altra miniera! Ma io dico di restare qui! Questa sembra piena di... Ehi, aspetta! Perché se ne vanno se la miniere è proprio lì? Allora la bussola non funziona! Siamo salvi, amico! Eccola uno e sarei completamente caldo! Abbiamo già perso fin troppo tempo! Adesso... Maddi! Adesso il Razzle! E' ora di addarcene, Ball! Ma Trashle! Non lasciamo di scappare! Forza, Lucerne! Ma ma solo tempo la perderai? Siamo passati! Vedi che ci arrendiamo! E per assagliarmi al Razzle! Preferirei essere eliminato! Salve un'ora, mio caro figlio! Ehi, Razzle! Razzle! Razzle mi ha colpito! Sventi, salite! Ciao, ragazzi! Che bello vedervi! Già, bellissimo! Ce lo pagherai per questo! Trovare miniere di zel! Missione compiuta! Accidenti! Un Razzle! Che bello! Dove l'hai trovato? E' caduto di mano al coccodrillo! Questo non è uno zel qualunque! Se i miei calcoli sono esatti, contiene una quantità di energia enorme! Esistono zelle superpotenti? Ma una notizia stupenda! No, non hai capito! E' stato alterato! Hanno concentrato tutta la sua energia per renderlo più potente! Ma si esaurirà molto in fretta! L'energia dei Broker non dura a lungo! E questo spiega come mai ci hanno attaccato! Hanno bisogno di nuove fonti di energia! Dobbiamo dirlo subito a Burn! Zelti è in pericolo! Un risultato inaspettato! È qui, è qui! Ragazzi, venite a vedere! È incredibile! Allora, Bob, vuoi avere tu l'anore? Eh, come? E che cosa dovrei fare? Aspetta, aspetta! Te lo spiego io! Una volta al mese il gioco offre ogni clan un metacesto con un gadget a scelta! L'ultimo stato al monocolo di Samo Brand non è stupendo! Mi fa sembrare un tipo testo, non travi? Era meglio prendere il lanciafiamme? Forza, Bob! Che cosa stai aspettando? D'accordo! Vediamo cosa abbiamo qui! Questa fantastica scatola contiene l'arco lanciaghiande l'arma più esplosiva di tutte il lanciamelma capace di paralizzare tutti i nemici o un simpatico robot interattivo il preferito di ogni bambino ci vivete saggiamente? Devi prendere l'arco! Che cosa? Quello che dice! Quello che dice! Quello che dice! Capo! Capo! È arrivata la scatola! Abbiamo avuto il gadget che volevamo e adesso possiamo costruire il nostro mega veicolo! Finalmente! Il Collector Plane! Con quello ora potremo rubare tutti i loro tronchi pieni di energia di Zell Va a dirlo a Matti e iniziate l'operazione! Nuova missione! Rubare i tronchi! Ora basta! Siamo tre contro due! Perciò vince l'arco lanciaghiande! Sarà perfetto per sconfiggere i Vroker! Per sconfiggere i Vroker? Ma devi fare qualcosa! Avanti, Pazza! I Woody hanno scelto... I robot! Però wow! È davvero bello bello! Tieni, Auli! Non fare il timido era quello che volevi, no? Tieni, Auli! Non fare il timido era quello che volevi, no? Ma che cosa hai fatto? Adesso siamo indifesi! I Vroker avranno scelto un gadget enorme e potente! Non hai idea di quanto... Sono già arrivato! Sam Brandt, Hoppy, Auli, state qui a badare al villaggio! Lupa, Bone, voi seguitemi! Difenderemo la foresta! Prendilo da destra! Cosa mi vieni addosso? Ma quale destra? La tua o la mia? Siete venuti ad ammirare il nostro nuovo gioco? Ci stanno un sacco di tronchi! Presto non avrete più una foresta! Ma guarda un po' chi c'è la mia lucertola preferita! Non ti è bastato il nostro ultimo combattimento? Non ti conviene provocarmi! Peccioni, aprite il fuoco! Eliminatele subito! A, B! All'attacco! Volete pungere me? Che ho la pelle coperta di squame? Dietro di te? Questa non te l'aspettavi, eh? E adesso me ne vado! Spero non vi dispiace, ma ho preso in prestito un tronco! Scusa, Lupa, non ti avevo vista! Mi dispiace molto! Fa qualcosa di utile! Proteggi, Bernard! Vi sta scappando! Non così in fredda, coccodrillo! Ma che succede? Volevi andartene senza salutare? Oh, no! Tornare al villaggio! Sta indietro, piccione! Oh, guardate che carino! Abbattetelo! Abbattetelo! Avanti, obbeditemi! Avanti, obbeditemi! Che state facendo? Sono io il vostro capo! Sono io il vostro capo! Fermi! Dovreste proteggere me! Dovreste proteggere me! Prendetelo, è giusto vostro! Ehi, e tu chi sei? E tu chi sei? Sta zitto! Sta zitto! Che ho vinto da guardare? Mi stanno toccando! Sono impazziti! Missione annullata! Così va meglio! Tornerò! Tornerò! Lo ammetto! Alla fine il robot si è rivelato utile! Rubare i tronchi dei voody! Missione fallita! Chi l'avrebbe detto? Siamo riusciti a non farci rubare i tronchi! Ed è tutto grazie a Bone! Ed è tutto grazie a Bone! Metasel! Metasel! La battaglia nel mondo virtuale impazzerà! Metasel! Wooden's and Rocket son pronti! Scopri chi vincerà! In questo mondo sei tu al comando! Cattura l'energia! Zez! Metasel! Nuovo giocatore di Metasel! Parte 2 Nelle puntate precedenti! Finito! Sì! Finalmente! Metasel! Arrivo! Benvenuto nel videogame Metasel! Wow! È da urlo! Sono proprio io! Ehi tu! Sono Bros! Il capo dei rock! Procedi! E cerchi i tuoi segni! Mark e Curtis ti daranno i dettagli della missione! Questa meraviglia si chiama Zell! La nostra vita dipende da loro! Le più grandi riserve di Zell sono sotto il controllo dei voody! E in quanto spia, la tua missione sarà quella di localizzare dove li nascondono! Finalmente ho trovato qualche altro voody come me! Torniamo insieme al villaggio? Magari possiamo fare una bella gara! La mia unica arma è un bastone! Stiamo scherzando! Aio! Brax! Forza, Auli! Sai cosa dobbiamo fare? Via dalla foresta, uccellacci! Senti questo! Ritiratevi, piccione! Confia, auli, distruggiamole! Ehi! Ho un regalino per te, caro Brock! E arriva con consegna speciale! Occhio alle spalle, pennuto! Spero ti piacciono le letture! Noi! Non eliminarmi! Sono un novellino! Sono in questo gioco da soli dieci minuti! Crocker identificato! Non sparare! Ma certo! Non possono spararmi! Sono un broker come loro! Ce ne sono troppi! Li ha mandati Bross per cercare il villaggio! Eh, villaggio? Dai, pensa, Bon! Sei una spia! Ma certo! Se li aiuto, si fideranno di me! Mi porteranno al villaggio! Devo provarci! Posso unirmi alla festa? Indietro, broker! Lasciate in fase i miei amici! Ma come hai fatto? È stato stupendo! Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmelo! Come vi è venuto in mente di allontanarvi così tanto dal villaggio? Verne! Siamo andati a cercare gli zelle, Mauli si è voluto allontanare! Io ho provato a dirgli che era pericoloso, ma non mi ascoltò mai! Ora basta! Se non impariamo a proteggerci a vicenda, siamo spacciati! Scusaci, Verne! Meno male che c'era quel cadizio che ha salvato la vita! Sì, beh, ecco, mi trovavo nei paraggi! E tu chi saresti? Non ti ho mai visto nella foresta! Io sono Bon e sono un Woody! È la prima volta che gioco e mi sono perso nella foresta! La prima volta? Io ci ho messo ore prima di arrivare a questo livello! Ci saresti davvero molto utile al villaggio! Non possiamo portarlo con noi, genio! È uno sconosciuto! Diglielo anche tu, Verne! Non può venire con noi, giusto? Beh, le regole del villaggio sono ferre, ma vi ha pur sempre salvato la vita! Merita una chance! Ma che stai dicendo, Verne? Bros, mi sono infiltrato! I Woody mi stanno portando al villaggio! Ottimo lavoro, Bon! Ma è proibito! Lupo non lo accetterà mai! Mi prendo io la responsabilità! Ora torniamo al villaggio! Si sta facendo tardi! E vai! Ho vinto io! Abbiamo un nuovo membro! Cosa vuoi dire? Bon, quel cane dalle orecchie gialle ha eliminato i miei piccioni per poter aiutare i Woody! Si è schierato col nemico? Non hai letto la chat di gruppo? Bros ha mandato un messaggio! Quel cane è riuscito a trovare ciò che tu ed io cerchiamo da settimane! E in questo preciso momento è diretto al villaggio dei Woody! Sai cosa vuol dire, vero? Ma certo, vuol dire che adesso... Silenzio! Dopo tutti i nostri sforzi, quel pivello è arrivato e ci ha messo in imbarazzo davanti a Bros! Trovare il villaggio era l'obiettivo più importante! Era la mia missione! Calma, così lo spavento! Oh, ma dovevi proprio farlo! E durante lo Zell Festival ogni Woody indossa la sua skin migliore! Dovevi vedermi l'ultima volta! Ne sei veramente sicuro, Vern? Io non mi fiderei! Io dico di coprirgli gli occhi due o tre giri su se stesso e lo lasciamo qui! Hoppy, ora calmati! So che vuoi soltanto proteggere il villaggio, ma sta tranquillo! Ti prometto che lo terrò d'occhio! Ed è per questo che dobbiamo mantenere in segreto il nostro villaggio! Ci siamo, Boom! Benvenuto al villaggio! La nostra casa! Wow! Trovare il villaggio dei Woody! Missione compiuta! Un'altra casa!